ah 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 mu qualcuno prende le botte e beeto questa volta stavo facendo il video e perché è successo eh 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 ehm eh ehm Vai a chiedere scusa a nonna Vai a chiedere scusa a nonna Vai a chiedere scusa Stava il video stavano E che si è rotto? E perché si è rotto? Chi ne è andato a toccato? Chi ne è andato a toccato? Chi ne è andato a toccato? Un zino E' un zino Io ho sentito un rumore Io ho sentito un rumore Che si è fatto a pezzi Chi l'ha fatto cadere? Sei stato tu a farlo cadere? E' stato Betto? E' stata zia? E' stato zia? E allora chi è stato? Il topino Mirjana Aspetta qua E' stato Flavio? Chi è stato? E' stato Flavio? Flavio è stato? Chi è stato? Sei caduto tu per te E ti hai fatto una cosa? Appena 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 è stato Betto E' stato girato a me E poi c'è Chiudono gli occhi Perché c'è proprio strillo Chi è stato a farlo cadere? E' nonna Che ti dovrebbe farlo? Dì la verità Dì la verità E' nonna Non vieni qua Aspetta Ehi Dì la verità Ehi Dì la verità Ehi Fai il bravo Dì la verità Dì la verità Ehi Dì la verità Ehi Dì la verità Ehi 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 L'ho fatto Flavio Non ti preoccupare Dì la verità